Un bimbo di appena due anni che chiede della mamma una vita spezzata e un'intera comunità ancora incredula. Anastasia Lashri è una delle 104 donne uccise quest'anno in Italia. In base ai numeri diffusi dal Viminale, sono 88 i femminicidi avvenuti in ambito affettivo o familiare. Di questi, 52 hanno visto come carnefice il partner o l'ex. Proprio come sarebbe avvenuto per Anastasia, la 23enne Ucraina accoltellata domenica 13 novembre, chiusa in un trolley e gettata nelle campagne di Fano, il marito di nazionalità egiziana ora in carcere con l'accusa di omicidio. L'uomo era stato denunciato dalla giovane pochi giorni prima del delitto, una tragedia ricordata anche ieri dalla premier Giorgia Meloni, seguita dall'annuncio del presidente del senato della sua visita a Fano in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. E oggi la russa è arrivato in municipio intorno alle 14.30 per un saluto istituzionale e seguito l'incontro con la mamma della ragazza. Sono gli uomini che devono affrontare e capire che il rispetto, il rispetto, perché questo è il termine fondamentale, che si deve alle altre persone, se possibile deve essere ancora maggiore verso l'altra metà del cielo. Per combattere i femminicidi non bastano le leggi o il lavoro delle forze armate, ha proseguito la russa. Mi aspetto che dalla conoscenza del fenomeno nasca la possibilità di combatterlo. Anche la commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio avrà il compito di verificare le statistiche, le ragioni e i rimedi. Serve efficienza. Se qualcuno è sospettato di poter far del male a una donna, a una persona, non basta dirgli tu non ti puoi avvicinare. Se io gli metto il braccialetto so che se si avvicina quello suona. Però più che le risorse, più che le norme, serve un fatto culturale. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che la società veramente pretende che il rispetto verso una donna non abbia eccezione. Presidente, educare al rispetto, lo diceva lei, all'uguaglianza, da dove cominciare però? Dai bambini, dalla scuola, dalla società e dal non offrire alibi. E' stata uccisa una donna, ma aveva sbagliato a tornare a casa a prendere i vestiti. E' già un alibi. Non ci sono alibi. Quindi quando si uccide è stata uccisa senza ragione una donna. Cominciamo a dire questo, abbiamo fatto un piccolo passo avanti. Dopo l'intervista rilasciata alla stampa, il presidente la russa si è recato in via Trieste all'Ido di Fano per depositare un mazzo di rose rosse davanti all'abitazione in cui Anastasia viveva col marito a lasciare un fiore anche ai colleghi della giovane mamma.